inizia oggi la nostra miniserie di sei puntate sul progetto caponord 2021 iscrivetevi al nostro canale per non perdere nessun episodio iniziò tutto quella sera con quel messaggio sul gruppo whatsapp in cui propofol ci convocava urgentemente per le ore 22 per chi di voi ancora non lo sapesse propofol è il nostro capo il presidente di trip chain cugino del famoso orso ted quello dei film per farvi meglio comprendere che tipo è propofol vi basti pensare che l'anno scorso dopo aver passato una serata ad ubriacarsi in una sidreria milanese con dei ragazzi spagnoli ci propose di rapinare la zecca d'italia e per un paio di settimane pretese di essere chiamato professore arrivamo puntuali alla riunione e propofol era lì ad aspettarci dignitosamente brillo con davanti una cartina dell'europa se entra troppi giri di parole il presidente ci comunicò che a primavera 2021 due del gruppo sarebbero dovuti andare in norvegia per prendere contatti con l'orso rolf precisando che l'incontro sarebbe avvenuto nel piazzale di caponord dopo pochi giorni della prima riunione propofol convocò me e logri a casa sua e ci comunicò che avrebbe affidato a noi due la missione caponord 2021 quella sera propofol ci diede i suoi ordini per la missione in norvegia consegnandoci una guida turistica una cartina della scandinavia e 5 mila euro in contanti ci restavano pochi mesi per organizzare il nostro viaggio alla ricerca dell'orso rolf 22 giorni 5 mila euro di budget massimo e una moto seguici nella progettazione del viaggio iscrivendoti al nostro canale ciao